e allora eccoci eccoci qua abbiamo iniziato subito con un piccolo mashup e io do ai nuovi ascoltatori subito il benvenuto ma innanzitutto saluto subito la mia Rosy ciao Rosy finalmente mi stai ascoltando anche tu questo mi fa un immenso piacere io vi ricordo sempre arrivo a un certo punto dove lo devo dire più volte ma inizio adesso 328 88 12506 il nostro numero di whatsapp per iniziare a interagire con noi a mandare saluti o dediche che volete fare noi vi aspettiamo ma prima di fare saluti o dediche ci abbiamo una domandina per voi oggi vi volevo chiedere ma a voi di una persona che cosa vi piace l'aspetto fisico o il cervello? grande punto di domanda mi piacciono fare queste domande un po' tra virgolette se posso definirle così particolari per vedere appunto voi come la pensate in occasione di questa domanda che ve la ricordo di una persona ti piace l'aspetto fisico o il cervello? e allora 328 88 12506 aspettiamo subito le vostre risposte perché oggi è CRT Radio succedono cose dopo vi spiego nello studio che cosa è successo però nel frattempo vi saluto ancora innanzitutto vi auguro un buon ascolto passeremo un'oretta insieme come sempre è arrivato il momento di ascoltare tutti insieme Fabri Fibra lo so che lo conosci e te lo ricordi ma ascoltiamo una sua nuova canzone una collaborazione che si chiama Propaganda la mia vita è piena di problemi e io mi ci butto a capofitto queste giornate piene di impegni dovrei imparare a seguire il ritmo giri in auto mi muovo da solo senza mezzi è meglio anzi peggio gli immigrati rubano il lavoro gli italiani rubano il parcheggio in ufficio il mio capo mi tratta come se non mi avesse visto mai prima che mi chiama Riccardo ma sono Fabrizio così perdo pure autostima si lamenta dice troppe tasse devo licenziarti addio ci vediamo servirebbe qualcuno che salvi il paese così potrei vivere in pace speriamo in giro che succede vi faccio vedere come si fa santa immaginazione ho perso le chiavi della città magiche le elezioni a fare promesse siamo i campioni passo l'inverno a tenervi buoni cerco l'estate qua giù in città e allora si propaganda propaganda non c'è più niente che mi manca e allora si propaganda propaganda la risposta ad ogni tua domanda finalmente qualcuno che parla per me che sa quello che provo finalmente qualcuno che pensa alla gente e che mi dà un lavoro che promette di farmi dormire tranquillo in tutte queste notti finalmente qualcuno che mi sembra onesto in mezzo a tanti corrotti qualcuno che mi assomiglia che in tv parla la mia lingua che difende tutti quei valori italiani tipo la famiglia uno come me che non se la tira che rispetti come chi ha la divisa anche se l'Italia l'ha un po' divisa attenzione guarda eccolo arriva evviva in giro che succede vi faccio vedere come si fa santa immaginazione ho perso le chiavi della città magiche le lezioni a fare promesse siamo i campioni passo l'inverno a tenervi buoni cerco l'estate qua giù in città e allora si propaganda, propaganda non c'è più niente che mi manca e allora si propaganda, propaganda la risposta ad ogni tua domanda sono passati degli anni e tutto è ancora uguale a prima sono sempre senza lavoro e sempre con meno autostima accendo la tele e un politico parla sembra interessante, ascoltiamolo un po' fa mille promesse e la gente lo guarda sicuro alle prossime lo voterò e allora si propaganda, propaganda non c'è più niente che mi manca e allora si propaganda, propaganda la risposta ad ogni tua domanda ma che occhi grandi che ho che bella ferpa che ho che bel sorriso che ho non mi puoi dire di no e allora si propaganda, propaganda propaganda, propaganda e allora si propaganda è proprio l'artista che abbiamo ascoltato in questo istante era proprio lui, Fabi Fibra ma nel frattempo io vi ricordo sempre quello che sta succedendo e quello che vorrei sapere innanzitutto sono le 18 e 10 precise di una persona ti piace l'aspetto fisico o il cervello? grande, punto di domanda aspettiamo subitissimo le vostre risposte sulla pagina della nostra radio CRT Radio su Whatsapp che vi ricordo il numero subito 328-881-2-5-0-6 anche oggi userò questo termine Whatsappami oh wow che figo di una persona ti piace l'aspetto fisico o il cervello? se lo chiederei a Fabi Fibra sarei curioso cosa rispondesse però, però, però vi spiego cosa mi è successo oggi o meglio questa notte eri mattina vabbè stavamo in quegli orari là mi vado a fare una doccia bello caldo no? sapete la doccia quando ti rilassi tranquillo immaginate la scena che nel relax totale pensi ad alta voce o canti ad alta voce benissimo io stavo cantando ad alta voce mi ero dimenticato dell'orario tardi esco dal bagno una volta finito tutto mi trovo mamma con una mazza in mano che mi dice hai rotto i bip vi sembra normale questo c'è neanche sfogarsi si può più nel proprio bagno ma comunque comunque un giorno mi svelerete anche voi ascoltatori cosa combinate nel bagno nel frattempo quello che voglio sapere oggi di una persona ti piace l'aspetto fisico o il cervello? aspetto vostre notizie prima di andare avanti di ascoltare nuova musica vorrei salutare anche fortemente una mia amica che mi sta seguendo da Mantova saluto la mia Marianna abbracci 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 wow 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 quanta bella gente mi sta seguendo vi vorrei salutare tutti ad uno ad uno ma io voglio vedere anche dei vostri saluti dei vostri messaggi ok io vi aspetto vi aspetto 328 88 1256 506 Alberto Pascucci è qui che vi sta parlando dal microfono di CRT Radio vedo una bella lucina rossa all right quindi sicuramente sicuramente qualcuno mi sta ascoltando quindi sicuramente devo essere una persona educata e non devo fare figuracce devo essere bravo bravo perfetto ritorni me ritorni me e allora signore andiamo subitissimo avanti iniziamo ad ascoltare un po' di musica che veramente ci scatena perché dovete sapere che quando arriva il caldo abbiamo voglia di una birretta fresca di un gelato e insieme ad essa ci vuole quella musica che ci fa sentire belli rilassati tranquilli e allora è arrivato il momento di Find Ma in the Club Disco Inferno Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti abbiamo appena ascoltato abbiamo appena ascoltato Find My Club wow 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 è quella musica proprio che ci piace e ci relaxa ma mi fanno morire da ridere ogni volta che vengo qua perché arrivano dei messaggi proprio bellissimi un mio amico è appena andato a casa a salutare mio padre mio papà mi manda una foto e mi fa guarda la domanda che hai fatto oggi di una persona ti piace l'aspetto fisico del cervello mi risponde in questo modo se sei una donna già sai cosa ci piace ciao Vito wow è vero è vero posso posso come dire concordare su questa risposta si ci sta ci sta ma non è solo quello quindi vi ricordo ancora una volta di una persona ti piace l'aspetto fisico e il cervello 328-88-12506 anche oggi come ho detto prima whatsappateci aspettiamo subito subito una vostra risposta inizio subito ad andare avanti e la musica che magari andiamo a ascoltare adesso è quella musica che ci sblocca dei ricordi ci fa ritornare un po' indietro nel tempo che possono essere dieci anni o magari qualche mese fa infatti proprio questa canzone si titola Memories stiamo parlando di david guetta buon ascolto I just wanna let it go grazie a tutti All the crazy shit I did to the night Those would be the best memories I just wanna let it go for the night That would be the best therapy for me All the crazy shit I did to the night Those would be the best memories I just wanna let it go for the night That would be the best therapy for me Hey, hey, yeah, yeah Hey, hey, yeah It's getting late, but I don't mind It's getting late, but I don't mind